un saluto da ivan di pacodigit dopo aver provato qualche settimana fa due modelli della serie out limits quindi telefoni destinati agli impieghi estremi mi riferisco al dss e al lx oggi abbiamo una sorta di di anteprima benché si è stati presentati sul finire dello scorso anno stanno arrivando proprio in questi giorni nei negozi questi due nuovi modelli stiamo parlando di solaris e di k2 cercherò di condensare in un'unica diciamo in un'unica videata ambe due i modelli per questioni di di brevità ringrazio sia il costruttore e distributore dei telefoni che stock house di corso sempline a milano per averci messo a disposizione questi esemplari per per la prova guardiamo un attimo i due telefoni partiamo da solaris che questo qui a destra solare si caratterizza per il fatto di avere nel cover posteriore un accumulatore di energia energia che viene ricavata dal dal da fonti solari quindi oltre alla possibilità consueta di attaccare il nostro telefono alla presa della corrente potremo anche alimentarlo tramite la luce solare interessante notare già in questo modello una ricercatezza notevole per quanto riguarda la protezione del telefono ora non so se sia ben visibile sotto la camera mai presente una guarnizione di materiale gommoso piuttosto corposa che va a sigillare il telefono nella sua parte posteriore quindi rendendolo molto resistente ad agenti esterni quali acco umidità sporco polvere un po di tutto per quanto riguarda il solaris il produttore dichiara di rispettare il protocollo ip65 come ho già avuto modo di dire nell'altra prova non sono perfettamente a conoscenza di cosa contemplino questi protocolli però eventualmente c'è possibilità di andare ad approfondirli nella parte posteriore già che ci siamo troviamo una batteria da mille miliampere una fotocamera da 2 megapixel che permette di girare anche dei brevi video abbiamo poi anche questi questi altoparlanti di di sistema è interessante notare veramente una cura molto importante per quanto riguarda l'assemblaggio per far sì che questo telefono sia sia particolarmente resistente la parte frontale è dotata di un display con risoluzione 240 x 320 pixel quindi una risoluzione che comunque è abbondantemente sufficiente per quanto riguarda un telefono con questo tipo di aspettative tra l'altro devo dire che display anche molto carino per quanto riguarda i colori direi anche accattivante per quanto riguarda il il menu diciamo che le cose interessanti che possiamo trovare nel menu sono un localizzatore gps adesso vediamo anche qualche altra qualche altra funzione comunque diciamo che abbiamo delle funzioni basiche tipo un calendario gli allarmi un interessante orologio mondiale che ci permette di vedere tutte le euro del mondo una bussola il gps di cui parlavo la calcolatrice un convertitore di unità quindi abbiamo peso e lunghezze e anche un convertitore di valute poi abbiamo anche un cronometro addirittura un lettore di ebook incorporato nelle impostazioni troviamo tutto ciò che riguarda le impostazioni del nostro telefono importante notare che il telefono è dotato anche di connettività bluetooth quindi lo possiamo utilizzare senza nessun problema con un auricolare per trasferimento di di dati presente anche un file manager per andare a cercare i nostri file sono presenti anche anche dei giochi possibilità di settare i profili del telefono un reparto multimedialità con la fotocamera di cui parlavo prima che permette anche di registrare dei video si può appunto poi riprodurli un lettore audio ed è presente anche un registratore sonoro oltre alla radio fm quindi è un telefono che utilizzato all'aperto ci permette di avere a disposizione una gamma di servizi diciamo di utilità quali possono essere appunto la radio una fotocamera per portare a casa qualche qualche immagine e soprattutto un telefono estremamente resistente a delle condizioni abbastanza critiche vediamo un attimo un po il corpo del telefono che probabilmente è la parte importante la parte software ci offre un telefono diciamo sostanzialmente normale un telefono sui generis non uno smartphone o telefoni voluti a cui ci siamo sempre più abituati negli ultimi periodi abbiamo a che fare con un bel telefonino per quanto riguarda la parte software ma soprattutto con un telefono che ha una destinazione d'uso particolare che è quella di andare in mano a chi fa un utilizzo estremo del telefono nella parte sinistra possiamo trovare questo tasto che è lo sblocco della tastiera l'abbiamo usato prima un tasto bilanciere che ci permette di controllare il volume questi tasti hanno una resistenza veramente coriacea sono proprio duri da schiacciare questo ci sta a indicare che c'è un livello di protezione anche su questi tasti bisogna esercitare un po di pressione dopo un po ci si abitua per poterli utilizzare nella parte posteriore nella parte inferiore chiedo scusa troviamo la cuffia e la porta micro usb nella parte di destra abbiamo tasto di scatto della fotocamera abbiamo poi un tasto che ci permette di di comandare la torcia eccola qui quindi avremo sempre a disposizione la nostra torcia per le situazioni di emergenza abbiamo poi un tasto sos che ci permette di programmare un numero da poter chiamare per situazioni di emergenza la tastiera trovo che abbia un feedback veramente veramente bello molto comodo da schiacciare mi è capitato già qualche prova recente di dire che ci si sta un po disabituando l'utilizzo di queste tastiere e normali ma confermo che sempre un piacere riutilizzarle abbiamo un piccolo pad personalizzabile nelle quattro direzioni tasto di chiusura chiamate di accensione del telefono tasto per effettuare le chiamate tasto menu e il tasto della della rubrica come dicevo prima abbiamo un display è un tft con risoluzione 320 per 240 quindi abbiamo un display posizionato in orizzontale piuttosto buona la parte telefonica devo dire che anche rispetto ad altri modelli che ho provato mi sembra che sia anche un po migliorato la qualità della parte acustica della capsula auricolare che mi era sembrata negli altri modelli un pochino meno prestante per quanto riguarda sia la qualità del suono che anche un pochino per il volume direi che abbiamo fatto dei passi avanti con questi due modelli passiamo ora al k2 anche k2 come il fratellino solaris è un telefono shock resistant resistente anch'esso a all'acqua qui il produttore dichiara di rispettare il protocollo ip57 abbiamo presente in questo apparecchio anche la bustola l'altimetro il misuratore della pressione dell'acqua naturalmente abbiamo la fotocamera e anche qui come nell'altro modello è presente anche la connettività bluetooth il telefono si presenta anch'esso con un display con risoluzione 240 per 320 quindi un quarter vga differentemente dal modello che abbiamo visto prima la disposizione è una classica verticale abbiamo una situazione abbastanza analoga a prima un pad con le quattro direzioni personalizzabili due soft keys con il menu e la rubrica tasto di accensione del telefono c'è anche una simpatica animazione all'accensione tasto per originare la chiamata abbiamo qui dei tasti che sono un pochino più piccoli rispetto al solaris ma sono comodissimi da usare al di là del fatto che siano un po più gradevole esteticamente si usano anche qua senza nessun problema anche per quanto riguarda questo telefono ribadisco il ciò che dicevo prima per quanto riguarda la qualità della parte acustica forse direi che ancora meglio del solaris nel senso che la la voce che esce dal padiglione auricolare e mi sembra più fedele un po di più di quell'altro modello abbiamo anche qui una serie di protezioni di questo materiale plastico gommoso che aiuta il telefono ad assorbire gli shock da da caduta abbiamo anche qui tasti per controllo del volume più o meno anche qui tasto per quanto per l'accensione rapida di questa torcia che ha un veramente un livello di illuminazione veramente forte non abbiamo nulla sul lato destro nella parte bassa invece abbiamo questo tappo di gomma che copre questo questo altro tipo di connettività abbiamo l'attacco della cuffia la presa micro usb e l'attacco per per le caricabatterie nella parte posteriore abbiamo anche qui una foto videocamera ambe i due telefoni hanno delle fotocamere incorporate non ci si può aspettare grandissimi risultati perché il l'elemento cardine di questi telefoni non è certamente la multimedialità ma è la resistenza a un utilizzo estremo difficile di queste apparecchiature però è interessante notare che comunque ci sia la possibilità di portare a casa degli scatti e anche dei filmini in questo caso abbiamo una batteria con un amperaggio leggermente maggiore siamo a 1150 mAh molto importante rispetto al telefono che stavamo guardando prima anche qui abbiamo una guarnizione che qui è un po più evidente ma addirittura il cover posteriore che è questo una volta inserito nella sua sede può essere fissato addirittura con delle viti metalliche c'è presente questa bustina con due viti e quella specie di di piccolo chiamiamolo cacciavite che ci permetterà di regolare opportunamente le viti quindi andremo a fare una chiusura davvero ermetica di questo telefono naturalmente ambe i due telefoni non sono piccolini sono telefoni con delle dimensioni mi viene da dire ragguardevoli in realtà non sono eccessivi da portare in giro però chiaramente rispetto a alcuni apparecchi molto sottili a cui ci siamo abituati assomiglieranno un po' dei telefoni di qualche anno fa naturalmente questo non va inteso come un difetto ma questi apparecchi sono stati con l'idea di proteggere al massimo possibile le parti elettriche, le parti elettroniche cioè tutto ciò che sta all'interno di questi due apparecchi bene io direi che per questa prima presa di contatto con Outlimits K2 ed Outlimits Solaris possiamo terminare qui se ci sarà tempo e modo più avanti vedremo di fare delle prove magari più approfondite adesso li ho ricevuti veramente ho i tempi molto contratti ho dovuto essere il più breve possibile devo dire che sono dei telefoni intelligenti cioè il mio punto di vista è questo abbiamo a che fare con dei telefoni estremamente precisi per quanto riguarda la loro destinazione d'uso e possono andare in mano a una moltitudine di utenti mi viene in mente chi lavora vicino all'acqua chi lo usa per fare sport estremi non so in montagna per lo sci mi viene in mente che si possono usare per esempio andando in moto sotto un'acquazione il telefono certamente sarà resistente all'acqua all'umidità quindi certamente l'utente finale di questi due apparecchi è più di uno e sono degli apparecchi veramente gradevoli da utilizzare magari sarò più preciso anche successivamente magari vedremo se riusciremo a integrare anche un piccolo articolo per quanto riguarda la loro precisa disponibilità nei negozi e anche il il loro prezzo finale bene vi ringrazio per l'attenzione e un saluto da ivan